Un cittadino tunisino di 29 anni con precedenti penali per spaccio già residente a Vittoria è stato espulso dal territorio nazionale perché è ritenuto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Il provvedimento del prefetto di Ragusa è arrivato a seguito di indagini avviate alla fine dello scorso anno dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa insieme al Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria. Dalle attività info-investigative si è riscontrato un indubbio oltransismo religioso comprovato in particolare dalla presenza di foto ed immagini su Facebook e sul proprio cellulare, chiaramente indicativo di un'adesione quantomeno ideologica all'atterrorismo di matrice religiosa islamica. Non sono emersi ulteriori riscontri relativi a progettualità ostile o collegamenti tra l'interessato con esponenti di organizzazioni terroristiche. L'uomo, dopo un periodo di permanenza presso il CPR di Brinisi, è stato rimpatriato dalla frontiera di Roma-Fiumicino alla paese di provenienza.